Non si può descrivere il dolore di Maria nella morte del figlio come non si può descrivere il suo amore verso lo stesso figlio. Maria presso la croce e Gesù che pendeva dalla croce erano due specchi che si riflettevano a vicenda o che pugnalata fu al cuore di Cristo la vista della sua cara madre. Forse anche lui, per il dolore, cadde sotto la croce. Quella benedetta vergine non si contenta di questo dolore ma vuole seguire il suo figliuolo sino alla morte. So che ella non commise leggerezza di donna imprudente come stracciarsi le vesti, tirarsi i capelli, percuotersi il petto, mandare gridi al cielo. Ma sono sicuro che ella in questo, come in ogni altra cosa, si portò come donna prudentissima, eccelsa di virtù e invitta d'animo. Credo che questo dolore sarebbe stato sufficiente a darle morte se il suo figlio, con la sua potenza, non l'avesse prevenuta per impedire tale effetto.